Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa pre-Ellas Verona-Lazio, 21esima giornata di Serie A. Come sempre vi chiedo un paio di domande a testa, cominciamo pure con Simone Antolini, Quotidiano L'Arena. Grazie. Buongiorno mister, è una domanda doppia. La prima è una squadra che deve comunque rincorrere, come gestisce le energie fisiche e mentali? E la seconda, a mercato chiuso, la tua analisi nella sintesi. Grazie. Sì, il discorso è proprio quello che hai detto tu, da un punto di vista soprattutto mentale. Bisogna stare molto attenti perché è proprio quello che dicevo anche le altre volte, cioè il rischio che poi comincia a guardare la classifica, comincia a guardare il risultato delle altre. Adesso è già la seconda volta che giochiamo di lunedì sera e poi giocheremo ancora lunedì prossimo. Quindi il fatto per esempio di giocare lunedì sera, inevitabilmente guardi il risultato delle altre. Quindi comunque sia, se non sei forte da un punto di vista mentale, qualche energia a queste cose te le tolgono. Quindi la prima regola, come ho detto già l'altra volta, è quella di avere la forza di non farsi condizionare da queste cose, ma pensare a quello che è esclusivamente quello che deve essere il nostro percorso. Quindi stare concentrati sulle gara dopo gara, in questo caso pensare esclusivamente alla Lazio. Non disperdere energie, riconosco che è difficile, perché ovviamente è difficile, però riuscire a essere focalizzati su tutte le cose che dipendono da noi e lasciare perdere il resto. Questo credo che sia la chiave fondamentale per fare questi mesi. Per quanto riguarda il mercato, è terminato, adesso c'è una rosa delineata. Con questi giocatori sappiamo che bisogna arrivare in fondo, quindi la cosa fondamentale è che tutti siano focalizzati su questo grande obiettivo che abbiamo. Rimanere dentro il campionato fino all'ultimo secondo del campionato, lottare in ogni partita. E questo credo che debba essere il nostro marchio di fabbrica. Alessio Facincani, Telearena. Pomeriggio mister, proprio perché il mercato è terminato, le chiedo, Duda sarà il regista di questo Verona? Beh, Duda è un giocatore comunque che ha caratteristiche, è un centrocampista, che ha giocato, che può giocare sicuramente un po' in tutti i ruoli del centrocampo. E quindi è un ragazzo, secondo me, che ha anche maturato ormai nella sua carriera una discreta esperienza, anche con la nazionale. È un giocatore tecnico, che tratta bene la palla, un giocatore che sa giocare a calcio. E quindi è sicuramente un giocatore che per noi sarà sicuramente un'arma, sarà un giocatore sicuramente importante all'interno del nostro contesto. A Dudin è mister anche schierato comunque i nuovi. Le chiedo se con la Lazio immagina comunque magari a partita in corso anche di fare ricorso agli ultimi arrivati negli ultimi giorni di mercato e poi se ci parla un po' delle condizioni anche con cui sono arrivati a Bilgaard e Gaic. Sì, è logico che loro hanno fatto giusto gli ultimi allenamenti, però da un punto di vista fisico, per le valutazioni che abbiamo fatto, sono assolutamente arruolabili. Poi è chiaro, non c'è stata ancora una conoscenza su tutti quelli che sono gli aspetti anche da un punto di vista della tenuta eccetera, perché ovviamente questo lo dovremo verificare, però sono giocatori che sono sembrati in buone condizioni fisiche e quindi sicuramente convocabili anche per la partita di lunedì. Alberto Fabri, Ellas Live. Ciao mister, ben trovato. Mi sembra dopo, con gli allenamenti a porte chiuse, è difficile anche capire come è cambiata l'aria all'interno dello spogliatoio giallo-blu, però guardando i risultati, sentendo le tue parole e quelle di ieri del direttore sportivo, mi sembra che l'aria sia cambiata in casa Ellas Verona. Ma guarda, io ti dico, per quello che dal momento in cui sono arrivato, io ho sempre visto una squadra che comunque ha voglia di provarci, ha voglia di provare a fare queste partite, come abbiamo detto, per cercare di raggiungere fortemente questo obiettivo. Chiaramente è logico che i risultati positivi di questo ultimo periodo, come ho sempre detto, sono i risultati che poi determinano anche l'umore, determinano il morale, e chiaramente questi hanno aiutato a migliorare il clima sicuramente all'interno dello spogliatoio. Logico che adesso è fuori discussione che non bisogna mai comunque dimenticare quella che è la nostra realtà, indipendentemente dal buon percorso che si sta facendo in questo periodo. Quindi, come sempre, in un ambiente dove è normale, forse anche il suo bello, che ci siano delle esasperazioni, sia quando le cose vanno molto male, eccessi di depressione, quando le cose vanno bene, eccessi di euforia. Tornando al discorso di prima, quando si fa un percorso come il nostro, è logico che anche da questo punto di vista bisogna essere molto bravi a riuscire in un mondo che ti porta al disequilibrio, a riuscire a mantenere equilibrio, non dimenticarsi mai chi sei, non dimenticarsi mai del percorso che dovremmo fare. E quindi è giusto essere fiduciosi, essere convinti, credere nei propri mezzi, però è anche giusto riconoscere la situazione in cui siamo ancora e quindi quanto ancora c'è da pedalare, ecco. Ecco, domani, o meglio lunedì, davanti a voi ci sarà una delle cime più importanti di questo percorso, parlando appunto di bicicletta, ovvero la Lazio di Sari, che secondo me è una delle squadre che promuove uno dei giochi più belli, balisticamente parlando, Numere la mano è una delle squadre che segna di più nel primo quarto d'ora. Ti chiedo quindi che Lazio dobbiamo aspettarci al Bentegodi, vista anche la Lazio di recente in Coppa Italia, e Doighe, che nell'ultima partita non l'è avuta a disposizione, causa influenza, ti chiedo se sarà a disposizione. Chiudo la mia domanda ultima, tre in uno, quindi, parlando sempre di mercato, poi ci sono stati questi casi verdi e lasagna. Ti chiedo come hanno reagito i giocatori e quanto sono contenti e convinti di essere rimasti alla final della Svarona. Grazie. Allora, partiamo dalla Lazio, come hai detto tu, credo che, almeno il mio pensiero, è sicuramente che giochiamo contro una delle squadre top di questo campionato, una squadra che ha delle qualità tecniche individuali nei giocatori elevatissime, in tutti i ruoli, è una squadra forte in tutti i reparti, e ha la caratteristica di avere un'organizzazione di gioco, secondo me, tra le migliori, sia da un punto di vista difensivo e soprattutto da un punto di vista anche offensivo. Quindi, una delle squadre che palleggia, credo, una delle migliori in Italia, con dei movimenti codificati, con dei movimenti studiati, precisi, fatti con grande tecnica, da giocatori, come ho detto prima, molto abili. Quindi, è logico che il quotiente di difficoltà della gara sarà elevatissimo, perché giochiamo veramente contro una delle squadre, secondo me, più organizzate del campionato, con grandi giocatori all'interno. Quindi, è logico che noi dovremo fare una gara di assoluto livello, dovremo andare anche oltre quelle che sono un po' le nostre qualità, perché è logico che per colmare un po' il gap che sicuramente un po' abbiamo, ci dovremo mettere quello spirito, quell'atteggiamento, quel carattere, quella voglia che occorrono per riuscire a fare la partita contro la Lazio. Questo è fuori discussione. Per quanto riguarda le condizioni di Doig, Doig ovviamente ha avuto un attacco influenzale, però si è ripreso e quindi è assolutamente a disposizione. Mentre per quanto riguarda il discorso di Verdi e di Lasagna, io, come sempre, al di là di quello che si può dire o non si può dire, io sono abituato a guardare i comportamenti. E quindi, io devo dire che da quando sono arrivato, sia Verdi che Lasagna, sono stati due ragazzi nei quali io non ho mai percepito, mai percepito, neanche settimana scorsa, alcuna cosa da un punto di vista dei comportamenti. Ho sempre visto giocatori super disponibili, che si sono allenati sempre bene e ripeto, anche settimana scorsa, nei momenti probabilmente più caldi del mercato, non lo so, ma io non ho mai percepito questa cosa e anche nei giorni dopo che è finito il mercato, quando si sono ripresentati al campo, ho sempre visto veramente atteggiamenti di grande voglia, sono a disposizione totale, sia che uno possa giocare oppure no. Quindi io guardo questo e da questo io posso dire che fino ad oggi li ritengo assolutamente due calciatori del gruppo al 100%, perché me l'hanno detto con il loro comportamento. Luca Chiarini, Tutto Mercato Web. Ciao mister, buongiorno anche da parte mia. Abbiamo detto della condizione fisica di nuovo in maniera un po' generalizzata, però ieri il non detto di Sogliano è stato piuttosto eloquente su Gaici. Io le chiedo se la sorpresa, anche l'atteggiamento con il quale è arrivato, se è tentato magari di affidarsi a lui già dall'inizio, nella partita di lunedì, insomma che impressione l'ha fatto? Al di là, ripeto, dell'aspetto fisico. No, no, ma certamente l'impressione è comunque quando arriva un ragazzo, un giocatore nuovo, in un ambiente nuovo, è normale che, almeno è normale, comunque i ragazzi che sono arrivati hanno mostrato tutti grande entusiasmo e grande voglia di far parte di questa squadra. Quindi anche Gaici da questo punto di vista si è allineato agli altri ragazzi che sono arrivati. Quindi, come ho detto prima, dal punto di vista fisico non abbiamo fatto chiaramente delle valutazioni complete, però sicuramente è un ragazzo che sta bene, che si è allenato bene in questi giorni, quindi sicuramente sarà convocato e poi sull'utilizzo o meno, adesso poi c'è ancora un allenamento, quindi faremo tutte le valutazioni dopo l'allenamento di domani. Poi le chiedo, due in una rapidissime, Gonge, anche qui la sua presa, l'impatto che ha avuto a Udine, che tipo di ruolo può recitare da qui alla fine della stagione? E poi un aggiornamento le chiedo su Faraoni a che punto è, quando possiamo aspettarci, non tanto di rivederlo in gruppo, ma proprio di rivederlo in campo? Sì, come ho detto, sia Seril, sia Braff, sono ragazzi che sono arrivati da più tempo, quindi a Udine, comunque Braff dall'inizio, Seril è entrato a partita in corso, perché comunque è logico che in questo periodo le valutazioni che si fanno e che si faranno sono diverse rispetto al mercato estivo, perché chiaramente col mercato estivo hai la possibilità di fare amichevoli, hai la possibilità di fare una preparazione più lunga, e quindi in questo caso è logico che l'inserimento deve venire in maniera diversa e soprattutto l'unico modo che hai di vedere poi i calciatori sono inserendoli all'interno di partite comunque di campionato importanti e quindi il percorso è stato questo per Braff, per Seril, per Duda e sarà così anche gradatamente per tutti gli altri perché è logico che il tempo non c'è più per fare amichevoli e cose diverse ma bisognerà poi chiaramente vederli in partita in corso ecco su Faraoni come avevo detto questa settimana avrebbe cominciato a lavorare sul campo quindi ha fatto tutto quello che doveva fare non ci sono stati intoppi per il momento quindi da settimana prossima sicuramente comincerà ad allenarsi anche insieme alla squadra e quindi direi che procediamo proprio non ci sono stati intoppi quindi da settimana prossima comincia ad allenarsi con la squadra ecco Tommaso Badia Calcioellas Io continuerei sulla linea degli infortunati volevo chiederti anche un po' qual è la situazione di Veloso a questo punto Sì ma Miguel chiaramente come avevo detto ha avuto un problema muscolare la scorsa rifinitura quindi come vi ho detto su quel tipo di problema muscolare ci sono dei tempi tecnici da rispettare quindi adesso credo che dalla prossima settimana comincerà anche un po' di lavoro anche lui sul campo eccetera chiaramente lui è un po' più indietro rispetto a Faraoni perché l'infortunio è avvenuto dopo però anche qui per il momento non ci sono stati intoppi quindi comincerà a lavorare dalla prossima settimana molto gradatamente quindi poi ovviamente gli altri due infortunati sappiamo di Enri e Rustici quindi questa è un po' la situazione generale e poi volevo chiederti un pochettino di queste tre partite in casa di lunedì alle 18.30 allora sappiamo ci sono delle motivazioni di Coppe Coppa Italia Conference League delle squadre che andate a affrontare però comunque non vedi un po' come penalizzante ecco il fatto che sotto l'aspetto ovviamente dei tifosi che verranno allo stadio di giocare tre partite in casa di cui una molto importante con la Salernitana alle 18.30 di lunedì beh sai questi sono discorsi organizzativi nei quali sicuramente non voglio entrare perché non non è un discorso che mi compete però come ho detto noi dobbiamo essere bravi a riuscire a a stare focalizzati su ciò che noi possiamo determinare e ribadisco la cosa sulla quale noi possiamo determinare è il fatto di non farci prendere da cose che non ci riguardano cioè per esempio come ho detto il fatto di giocare il lunedì è un po' particolare perché comunque vedi giochi quando hai visto il risultato di tutte le altre e inevitabilmente questo anche inconsciamente così nell'immediato qualche pensiero te lo fa fare o in positivo o in negativo ecco questa è una una maturità che la squadra deve acquisire che è quella come ho detto prima di riuscire a non farsi influenzare da queste cose ma riuscire a guardare solo quella che è la nostra partita perché ripeto per il tipo di percorso che dovremmo fare questa sarà una chiave importantissima chiudiamo con Gaudio Pedalino RCS ciao mister ben trovato volevo per quanto riguarda gli infortunati ci ha già spiegato abbondantemente e fa piacere sentire che ormai siamo sulla via del rientro volevo capire dagli allenamenti che ha fatto in queste ultime settimane sia i due centrocampisti Duda e Abil Gard come li vede li vede più come registi centrocampisti o trequartisti no sono sono due centrocampisti due che possono fare sia il mediano a due che possono eventualmente giocare anche in un centrocampo a tre però sono due prettamente centrocampisti con Duda che ha sicuramente come ho detto prima qualità tecniche e quindi lui in carriera è stato impiegato anche magari qualche volta in un ruolo un po' più avanzato ok però diciamo che il loro ruolo principale sono proprio dei centrocampisti quindi un mediano mezzala Oliver è un giocatore mancino che ha anche lui qualità tecniche ha struttura fisicità perché è un ragazzo insomma secondo me arriva anche a 1,90 quindi ci porta anche centimetri che comunque in quella zona di campo soprattutto in determinate partite potranno sicuramente servire mentre Duda ho detto è un giocatore tecnico un giocatore che sa trattare bene la palla e quindi sono due giocatori con queste caratteristiche insomma tornando invece a Gaic giocatore strutturato eccetera rispetto al Duritz che in queste partite ha dimostrato di essere quello che prende tutti i palloni gli spizza gli appoggia i compagni ecco può avere un gioco similare o un gioco proprio da più da prima punta sì no le caratteristiche di Milan sono sotto certi aspetti uniche perché comunque in quel tipo di giocate è un giocatore fortissimo no soprattutto nel nel gestire determinati palloni nel anche soprattutto nell'avere la capacità di indirizzarli nel di fare sponde è un giocatore da quel punto di vista di grandissimo livello mentre Gaic ripeto è un giocatore sicuramente strutturato però ha caratteristiche diverse perché comunque nonostante la struttura è un po' più dinamico quindi è un giocatore che può lavorare anche magari anche negli spazi eccetera quindi da questo punto di vista pur avendo due strutture importanti comunque sono due giocatori diversi da questo punto di vista grazie buon lavoro grazie grazie